Secondo i dati dell'Osservatorio Economico di Union Camere Sicilia, il fatturato dell'export siciliano da gennaio 2018 a settembre dello stesso anno ha registrato una crescita pari al 19%. Tra le province con la migliore performance di prodotti venduti all'estero troviamo Palermo, che si conferma in cima alla classifica con una crescita del 108%. Seguono Siracusa più 19,6%, Trapani più 17%, Catania più 14%, Ragusa più 11% e Agrigento più 10%. In leggera crescita anche Messina più 4%, mentre registrano purtroppo una flessione in negativo Caltanissetta col meno 26% ed Enna meno 8%.